In questo piccolo tutorial ti spiego come nascondere le icone sul desktop in meno di un minuto, non ci vuole niente. Quindi in questo caso clicca tasto destro sullo schermo, visualizza, mostra icone del desktop. Eccolo qua, nascondi così le icone sul desktop. Se in questo caso vuoi fare un tutorial o un video perfetto senza far vedere le icone sul desktop, questo è il metodo. E per far tornare le icone clicca di nuovo su mostra icone del desktop. Quindi se ti è stato utilissimo questo video ti consiglio di iscriverti, lasciare un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao! Ciao!